Sono 29 i nuovi positivi al covid in provincia di Agrigento su 296 tamponi effettuati, 25 i guariti e 2 i nuovi ricoveri. Lo riporta il bollettino dell'ASPE sull'andamento epidemiologico in provincia riferito alla giornata di ieri. Invariata la situazione a Sciacca con 11 persone contagiate, così come a Ribere e Santa Margherita a Belice dove c'è un solo positivo. In variato rispetto al giorno precedente anche il dato di Santo Stefano Quisquina con 36 cittadini contagiati. 10 casi ad Agrigento, 1 a Bivona, 99 a Canicattì dove ci sono stati 5 nuovi casi, 128 a Licata, 10 a Menfi e cioè un caso in più rispetto al giorno precedente, 48 a Palma di Montechiaro, 4 a Porto Empedocle, 7 a Raffadali, 31 a Ravanusa. In ospedale ci sono 11 pazienti ricoverati in degenza ordinaria al San Giovanni di Dio di Agrigento e 3 al Fratelli Parlapiano di Ribera. Nessun paziente nelle terapie intensive degli ospedali agrigentini. A livello regionale ieri sono tornati a scendere i positivi al Covid-19 in Sicilia, 284 i nuovi casi registrati sull'isola, su 13.083 tamponi processati tra rapidi e molecolari e tasso di contagiosità al 2%. Ci sono stati altri tre morti che hanno fatto salire il numero complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia a 5.893. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, nelle degenze ordinarie i posti letto occupati sono 362, 3 meno del giorno prima, mentre le terapie intensive sono 38, il giorno prima erano 39. Ieri infine ci sono stati in Sicilia 242 guariti e il numero di persone tuttora positive ha subito un lieve aumento, sono 7.361, 39 in più rispetto alle precedenti 24 ore.